E' stato secretato il lungo interrogatorio al quale nella giornata di ieri presso la cittadella giudiziaria è stato sottoposto Vittorio Fiorenzo Zoccola, il presidente di una delle otto cooperative sociali, ma di fatto il gestore principale del sistema, sul quale punta l'attenzione l'inchiesta della procura di Salerno, che ha portato in carcere Zoccola e ai domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Nino Savastano, ed il dirigente del settore ambiente, Luca Caselli, con l'accusa di aver realizzato una serie di irregolarità che consentivano alle cooperative, con un giro di circa 200 lavoratori ed un valore di 1.600.000 euro l'anno, di vincere tutti i bandi relativi alla gestione di servizi vari, tra i quali la manutenzione del verde pubblico, ottenendo in cambio sostegno elettorale. All'interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello e IPM Guglielmo Valenti e Elena Cosentino, che ha preso il via alle 11.30 ed è terminato alle 18.45, ha preso parte anche il procuratore capo Giuseppe Borrelli. Zoccola è difeso dall'avvocato Michele Sarno, candidato alle ultime elezioni amministrative nella coalizione di centrodestra. Dopo aver convocato una conferenza stampa per la giornata di domani, oggi l'avvocato Sarno ha disdetto l'appuntamento con la stampa. Nulla in ogni caso è trapelato dalle dichiarazioni di Zoccola, unico ad essere stato ascoltato ieri perché per un ritardo nella notifica degli atti gli altri interrogatori sono stati rinviati. Lunedì, ad essere ascoltato dai magistrati, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che in queste ore alle prese con il rebus giunta, prende sempre più piedi l'ipotesi di assessori tecnici, ma non sarà facile individuarli. Nell'ordinanza viene più volte evidenziata la rete di relazioni tessuta da Zoccola con il mondo politico e amministrativo. Egli è al centro di un vasto network di conoscenze, legami, interessi economici. Si legge nell'ordinanza e non escluso che ieri Zoccola abbia iniziato a fare piena luce proprio su questa rete, su chi e come ha beneficiato del suo appoggio.